Ragazzi non ci sono più ingredienti sul banco Allora lei è Elenia Tu sei Enrico Enrico sei di Bologna Ma no prima hai detto di Cento Cento è la mia ragazza, io sono in Bologna Cento è Ferrara Lei guarda che arriva con un'altra sangria Brillantissima, tutta silenziosa No il tavolo l'avete trovato? Un tavolo qua dietro E poi l'abbiamo chiamata e detto guarda che porta Un paese a polio, il telaio No ma c'è n'è Cosa devo fare io? Stavo parlando di Luca Il gruppo l'aveva con tuo marito Guardate quanta gente E gli era vuoto No noi neanche, l'una venuta un po' E se nel polizio Quello lì in fondo della serie è un po' meno Il gruppo, perché lui è il primo amico E questo sa che devo fare una fotografia Basta, è finito Adesso dopo gireranno il brodo E le cozze Eh, il brodo dobbiamo... Ah, eh, manca ancora il brodo Le cozze E i gamberi alla fine E i gamberi alla fine che sono già stati cucinati Prima passaggio Mmm, buono Allora che odore sti gamberi Come sono sti gamberi? Paura, vuole ubo uno Paura? Vuole ubo uno adesso Ma che stai provendo? Succo di uva Ok, peggioriamo dopo Succo di uva